Buongiorno, miei amici del mio canale. Speriamo che tutto venga. Resta con me andare insieme alla banca. Ora stiamo a parlare di come inviare dinaro alla tua una stessa senza pagare. E per fare questa cosa, solo bisogno del numero di conto e del nome completo della persona. Assalamualaikum al chuj. Ora siamo arrivati a fare un soldato di un uomo di banca. Ora vi faccio vedere come si sono arrivati a fare un soldato di banca. Come si sono arrivati a fare un soldato di banca. Come si sono arrivati a fare un soldato di banca. Ora vi raccomando il contesto di un soldato di banca. Alla c'è stata, potenza di un soldato di banca. Scusate di un soldato di un soldato di banca e di un soldato di banca. Ora vi raccomando il soldato di banca. Ora sollevi al soldato di entrambi, e farlo di un soldato di banca, non si tratta per farvi l'agence che si tratta la pagina di questo è un po' il po' un 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 po' in cui si vieni in una palla edificazione in una palla o il suo presto in un'applicazione e si fai in un'applicazione a questo se per a tutti non vogliono con il conto e non ha un'attivazione e si si avvicinano il modo che non puoi per farvi e il saluto il saluto e il saluto qui si trova il bambino per farvi per farvi a questo la partenista il saluto le carte leλλobini, le bietaqa lewo, e l'essayate della banca e l'essayate delle banca, e l'essayate il tuo chelico aiutare la robocchetta di un depositare nella copicina la copicina che non riesco a farlo che lo dico alla copicina non riesco a farlo le chelico al depositare una copicina la copicina la copicina è reale non è fotocopiano quando il nostro fotocopiano non cambia di machucione la copicina la copicina aiutare la copicina i suoi lo pugno e ma HIV Si chiede, si muerete il coro e si muerete il coro. E la sua capacità di fare il coro. E l'ho sede. Perché la sua volta che muerete il coro e si muerete il coro. E poi si muerete il coro di un coro. Inoltre il coro, si muerete il coro, il coro, il coro e il coro. Ma perché si muerete il coro? C'è il coro che non chiede il coro. ci vediamo Mie amici, la prossima vlog, presto, ciao a tutti e buon tornato sul mio canale.